Musica E ci siamo, ci siamo, ci siamo Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Io sono Daniele Danzu E oggi siamo, finalmente, alla prima puntata della seconda edizione Non ci credo neanch'io che lo sto dicendo Ma siamo alla prima puntata della seconda edizione del Grande Fratello di Daniele Danzu Hashtag GF Daniele Danzu Per tutti i commenti o tutto ciò che volete, diciamo, dire A riguardo di questa nuova, diciamo, avventura Finalmente siamo partiti Mi dovrete scusare La vocema io ieri, tipo, non parlavo per niente Perché ieri avevo la febbre Oggi mi sono alzato con un mal di gola Pazzesco Ma comunque, oggi volevo registrare Anche perché era da tanto tempo che non lo facevo E quindi, diciamo, ho trovato le forze per farlo Allora, come potete vedere Già l'ingresso è completamente diverso Perché questa edizione del GF2 Del Grande Fratello Danzu È l'edizione Mentre la prima edizione è stata quella dei segreti Vinta da Federica Fontana Questa sarà l'edizione delle novità Ci saranno tante novità Tante nuove dinamiche di gioco A partire da la casa Che è completamente diversa A partire, ovviamente, dai concorrenti Che sono, ovviamente, necessariamente diversi Come vuole il gioco E poi andremo a scoprire piano piano Anche nel corso delle puntate Le varie e diverse novità Allora, ragazzi Iniziamo subito con il farvi vedere la casa Come potete vedere Qui c'è il corridoio rosso Non è munito di altre porte Quest'anno Anzi, in questa edizione Io dico quest'anno Perché secondo me è come se fosse passato un anno Ed entriamo subito nel vivo, diciamo, della casa Allora, non voglio mostrarvi tutto e subito Qui abbiamo Vedete già delle scale Quindi novità di quest'anno della casa Sicuramente è proprio questa Il fatto di avere un secondo piano inferiore Allora, come vedete Io posso anche mettere tutti i muri Qui abbiamo la cucina Con la zona pranzo Che vi avevo già fatto vedere La cucina è completamente L'ho chiamata ice Perché è completamente grigia Quindi un po' ghiaccio E qui abbiamo un muro abbastanza spoglio Perché qui andremo a mettere le foto Di tutti i concorrenti Poi abbiamo la zona soggiorno Come vedete questo grande tappeto E questo nuovo, diciamo, stile di divani Grazie all'ultimo staff pack E poi in più abbiamo separato Quindi la zona dove appunto gireremo la puntata Ovvero il salotto È di fronte al giardino Come vedete il salotto si propone anche In colori completamente diversi Vedete qui una zona centrale Con una seduta qui Un arco E un'altra porta rossa Come vedete È separato da invece Un telecamera ovunque Ovviamente Dalla zona invece Dove i nostri ragazzi potranno vedere la tv Perché mi sono accorto Che nella prima edizione I ragazzi passavano molto tempo Nella zona salotto Quindi mangiavano anche lì Per guardarsi la tv Quindi questa volta Ho messo solo un divano a tre Per appunto guardarsi la tv Poi ragazzi Questa è la camera Completamente nuova Completamente moderna Come potete vedere È munita di questi armadi molto grandi Questi stanzini Dove i nostri sim potrebbero anche fare cose Non proprio Le cose zozze praticamente Tanti specchi Perché i nostri sim possano appunto Specchiarsi L'aggiunta di tre letti matrimoniali In vario colore Che ovviamente Qualora si dovessero formare delle coppie Appunto potrebbero dormire anche insieme Come vedete Sono otto i letti Poi alla fine Perché sono cinque letti singoli E tre letti matrimoniali Perché ovviamente Possano dormire tutti Possano avere tutti un posto letto E poi magari Quando si accoppieranno Diventeranno amici Potranno decidere Di dormire anche insieme Da questa parte Come vedete Io ogni tanto risucchio Il mociolino Nell'aso Perché Non è facilissimo Novità È sicuramente Il confessionale Metto muri Magari Ok Il confessionale Che vi avevo già fatto vedere È diventato un po' più moderno Un po' più high tech Che porta ad una stanza Nuova Ed è una delle novità Di quest'anno Poi abbiamo invece Zona bagno Che si propone Innanzitutto Con un bagno Praticamente normale Molto bello Sui toni dell'azzurro Ovviamente sono divise Le docce I gabinetti E via dicendo Ma poi questo bagno Porta Alla zona Relax Ovvero Dove vediamo La zona sauna Che quindi si accede dal bagno Quindi non è più dal giardino E poi abbiamo Due nuove stanze Ovvero La zona dove i nostri Simo potranno rilassarsi Facendo yoga Oppure dove potranno Benissimo Farsi dei massaggi E magari Questi massaggi Porteranno anche A qualcosa Di diverso Altra novità È la nuova Stanza Palestra Piscina Ho deciso di fare Una piscina interna Molto più grande Quindi non più nel giardino Che sinceramente Non mi piaceva tanto O comunque La zona del giardino Non veniva utilizzata Molto E qui abbiamo appunto La tapirurana Perché la zona Una stanza interamente Della palestra Anch'essa Non mi interessava Più di tanto Averla Anche perché veniva Magari utilizzata Da solo un sim E quindi non era interessante Il giardino Leggermente più piccolo Ma secondo me Più funzionale Dove abbiamo La vasca idromassaggio Che dall'interno È passata all'esterno E poi abbiamo Questa bellissima Comfort zone Con ovviamente Queste sedute fantastiche E questo Ombrellino Parasole Il giardino Quindi la zona Del giardino È molto più stretta Passiamo ad una Delle novità Della casa E questa È la casa Scusate La camera Diciamo Particolare Che capirete Poi più in là Lo scoprirete Principalmente Anche nella seconda Puntata È una stanza Che vedrà Molte decisioni Da parte Dei nostri concorrenti Appunto perché Questa sarà Come vi ho detto L'edizione delle novità E quindi Una delle novità Sono le decisioni Che i nostri concorrenti Dovranno Prendere Invece Con Vediamo i nostri primi Tre concorrenti Poi vi faccio vedere Il piano di sotto Così vi spiego L'altra novità Allora ragazzi Due già li conoscete Perché sono quelli Che ho mostrato Sulla mia pagina Ufficiale Dove appunto Usciranno tutte le schede Dei concorrenti E sono Darren Badou Di Alessandro Nanni E Darren Ovviamente È un È una stella Delle barzellette E come Diciamo Tratti È socievole Goffo Testa calda E buffo Quindi una personalità Molto forte Poi abbiamo Alicia Taylor Invece Che è di Maria Grazia Catalano Fior Anche lei Una personalità Molto particolare Perché è un genio musicale Quindi amante della musica Creativa Ma è molto Riflessiva E soprattutto Gelosa E invece Il terzo concorrente Nuovo Che voi ancora Non conoscete È appunto La nostra Maria Sole Boschi Maria Sole Boschi È la simina Creata per noi Da Hoschi Re PRC Garcia Ragazzi Quest'anno i vostri nomi Da dire Sono più Diffici Di quelli Del nostro sim Maria Sole Boschi È una Sim È un sim Rinascimentale Ed è un po' Snob Goffa Veloce Di imparare E ambiziosa Quindi tre personalità Ragazzi Niente male Li facciamo subito Entrare Nella casa Facendoli Sedere Appunto Sul divano Azzurro Loro sono I primi tre Concorrenti Del nostro GF2 Di Daniele Danzu E vediamo Il loro ingresso E anche Il loro Magari La loro Prima Chiacchierata La casa Secondo me È molto Bella Non so Se è più bella Dell'altra edizione O meno Però A me piace Tanto Eccoli qui Ragazzi Maria Sole È la prima Ad entrare In casa Una personalità Pazzesca E iniziamo Subito A farli Conoscere Mi chiedi un massaggio Svedese Ecco Impara a conoscere E subito Impara Anche lei Anzi Rallegra Oppure un Complimento Sincero Perché si alzano? Complimento Sincero Ovviamente Non mi ricordo Se ho messo L'autonomia Lui fa un Complimento Ad entrambe Acquisita L'abilità Di carisma In effetti Lei è molto A velocità Ad imparare La casa Io la trovo Ragazzi A me piace Un sacco Poi il fatto Di poter Giocare Anche con i muri Alzati E avere loro Così vicini Mi piace Da morire Due ragazze Molto carine Sicuramente Non Le strafighe Della situazione Però Con personalità Molto Molto Prorompenti Lui E' un ragazzo Di colore Nella scorsa edizione Se non erro Non ce ne sono stati Quindi A me interessava molto Avere un ragazzo Comunque Di colore O comunque Dei ragazzi Con etnie Diverse Ma ragazzi Andiamo avanti Io metto un attimo In pausa Perché vi faccio vedere Subito L'altra novità Di questa Edizione L'altra novità Di questa edizione E' appunto Il sotterraneo Nella parte Sotterranea Innanzitutto Avremo La zona Dove i nostri ragazzi Potranno divertirsi A parte che ci sono queste finestre Che affacciano sulla Zona piscina Quindi quando loro Nuoteranno all'interno Della piscina Noi li potremo vedere Da sotto E nella zona Del sotterraneo Ci sono Appunto Il tavolo del Bigliardino Per giocare Il bar Che quindi non è più Dentro la casa Ovviamente un piccolo bagno Per le esigenze Una console da DJ E una pista da ballo Dove appunto I nostri concorrenti Potranno divertirsi E passare le loro serate O feste Come meglio Diciamo Credono Oltretutto Ragazzi Qui vedete Una stanza vuota Perché questa Sarà Una delle navità Che voi saprete Dalla settimana prossima Ovvero Scusate Dalla prossima puntata Perché non è detto Che ci sarà Una Non sarà proprio La settimana prossima Ma è molto interessante Ve lo posso assicurare Una cosa Che vi coinvolgerà Un po' tutti Ora ragazzi Vado a far entrare Gli altri tre concorrenti Quindi Io li vado A prelevare E a mettere Subitissimo Nella casa Vediamo un attimo Appunto Mi devo anche ricordare I ragazzi Dove li ho messi Perché li ho già preparati Tra l'altro Ed eccoci Con altri tre concorrenti E se Avevo chiesto A voi creatori Estro Personalità E creatività Sicuramente Questi tre concorrenti Non sono Assolutamente Da meno C'è Enrico Marcelli Di Jack Simfan Anche in questa edizione Entra un sim Creato da Jack Simfan Personalità Assolutamente Particolare Animale Da festa Attivo Ambizioso Socievole Socievole Buono Come potete vedere Con questo cappello La cowboy Mi ha colpito Particolarmente Secondo me Anche un bel fusto Poi abbiamo L'altro uomo Che io ho adorato E amato Da come ho visto Lui è Leader della comitiva Quindi una personalità Nuova Grazie Alla nuova Espansione Usciamo insieme E ha come tratti Geloso Sicuro Perfido E socievole Ragazzi Cioè socievole E perfido Voglio proprio vedere In che cosa Diciamo Consisterà Poi lui ha Questo abbigliamento Un po' stravagante E truccatissimo Quindi mi piace un sacco E non da meno È la nostra Clarissa Bianchi Ah Non vi ho detto Ovviamente Lui si chiama Bronislav Plotnikov Quindi Ciao Quest'anno Questa edizione Con i nomi Ed è di Francesca Carbone Bravissima Devo essere sincero Mi piace un sacco E poi abbiamo La nostra Clarissa Bianchi Un po' tutta in azzurro Dal trucco All'abito A tutto Con questa bombetta Che io adoro Anche lei Leader della comitiva Quindi hanno la stessa aspirazione Magari Nascerà qualcosa Tra i due O magari diventeranno amici E anche lei Sicura Socievole Ma lei è Testa calda E ambiziosa Tra l'altro Ragazzi Alcuni di loro Hanno Diciamo Sono più grandi Di altri Perché Non tutti Sono stati Creati appositamente Per il GF Ma Come possiamo Vedere Alcuni erano Sim che voi Utilizzavate nel gioco E che avete deciso Di far partecipare A questa edizione Io direi Di fargli entrare Subito in casa Di farli raggiungere Agli altri Tre concorrenti E soprattutto Di farli Presentare Perché ovviamente Perché ovviamente Essendo Le ho divisi Per fargli entrare Presentazione Amichevole Con tutti Presentazione Divertente Presentazione Allegra Poi abbiamo Bronislav Che è uguale Inizia magari Da lui Vediamo un attimo Presentazione Amichevole Presentazione Divertente Presentazione Amichevole Ecco qui I nostri ragazzi Che entrano E piano piano Stiamo Diciamo Concludendo La rosa Degli otto Concorrenti Che entrano Il primo giorno Nella casa Del GF2 Daniele Danzu Presentazione Amichevole E Presentazione Divertente Devo dire Che la rosa Degli otto Ora che conoscerete Anche gli altri due Concorrenti È molto Particolare Perché Sono otto Personalità Completamente Diverse E io Vi vado A svelare Un'altra Novità Prima di Presentarvi Gli ultimi Due Concorrenti L'altra Novità È proprio Questa Che Io Comunque Terrò Aperti I casting Fino alla fine Quindi Chi non ha Ancora Mandato il suo Simo Chi magari In corso d'opera Vuole parteciparci Può benissimo Farlo Perché Ovviamente Gli otto Concorrenti Che entreranno Oggi Non saranno Gli unici Ad entrare Quindi Sia per chi Ha già mandato Il sim Non demordesse Se non vede Appunto Tra gli otto Primi concorrenti Il suo Aspirante Concorrente Perché potrebbe Entrare Successivamente E oltretutto Anche chi Ancora Non ha Mandato Nulla Può benissimo Provarci Magari Manda Il sim Dell'anno Con la Personalità Più bella Di questo Mondo E magari Io lo posso Fare entrare Successivamente Nella casa Loro Sono i primi Sei concorrenti Già Mi piacciono Da morire E adesso Vado a Prendere Gli altri Due E ultimi Concorrenti Di questo Primo Giorno Del GF2 Daniele Danzu E non per Importanza Ma semplicemente Per una Questione Di ruolo Questi sono Gli ultimi Due Concorrenti Che entrano In questo Primo Giorno Nella casa Del GF Daniele Danzu Qui vedete Un Biondino Mulattino Che si Chiama Per l'esattezza David Black Lui E Il sim Creato Da Ve lo dico Subito David Black Da Rachele Tracuzzi Spadaro Anche questo Nome Un po' Difficile Da ricordare Va bene Rachele Tracuzzi Spadaro Me lo devo Ricordare David Black Anche lui Una personalità Particolare Perché è Un curatore Che non avevamo Ancora mai avuto Un concorrente Curatore Nella casa Lui è amante Della famiglia Ama L'avri Aperto Ovviamente Essendo un Collezionista Ed è allegro Quindi una bella Personalità Divertente E poi abbiamo La nostra Invece Irene Ricci Che io trovo Molto bellina Qui come vedete Il set Perché andrò a fare Le foto Dei concorrenti Magari le facciamo Cambiare Espressione Una ragazza Secondo me Molto bellina Lei è Irene Ricci Creata da Raki Prisco Che io saluto Anche Perché tutti Devo dire Che un po' tutti Coloro che hanno Creato Sim per me Sono persone E personalità Che io seguo Su facebook E che vedo Molto attive Nel mondo Di The Sims Quattro E soprattutto Nei gruppi Irene Ricci Anche lei Ha la prima Forza ad entrare Che cerca L'anima gemella E lei ha una personalità Ovviamente Attraente Buffa Testa calda E attiva Ecco ragazzi Se proprio devo essere sincero Ho visto che molti Sim hanno Questo tratto Testa calda Quindi prevedo anche Un'edizione Di mani Alla grande Cioè nel senso Un'edizione Dove se le daranno Di santa ragione Questi due concorrenti Sono gli ultimi Due concorrenti Ad entrare Come vi dicevo Non per importanza Ma per ruolo Perché loro due Fanno parte Quindi non lo sono Tra di loro Ma loro sono Un concorrente doppio Nel senso che Non lo sono tra di loro Ovvero Irene Ricci Ha la sua Appunto Metà Di concorrente doppio Che ancora non è entrato E anche David Black Ha la sua Metà di concorrente doppio Che ancora non è entrato Perché appunto Ragazzi Li farò entrare In corso d'opera Quindi loro Non sanno Di avere La loro Metà In gioco Pensano di essere Stati scelti Come concorrenti Singoli Ma loro giocheranno Come concorrente Doppio Quindi Due concorrenti Doppi Subito E chissà Se saranno Anche gli unici Due concorrenti Doppi Ma li facciamo Entrare subito In casa Per non perderci In chiacchiere Allora Irene Andiamo qui Presentati Amichevole Amichevole Con le donne Magari Divertente Presentazione Divertente Con gli uomini Presentazione Amichevole Dato che vuoi trovare L'anima gemella E qui niente più Quindi intanto Vai Mentre Il nostro David Iniziamo da Maria Sole Presentazione Amichevole Presentazione Amichevole Presentazione Amichevole Voilà Presentazione Divertente Presentazione Amichevole E molto probabilmente Non potrai Presentarti Vediamo Enrico Marcelli Ce la fai? Sì Perché tu puoi fare Sei azioni? E la nostra Irene Riccino L'hai messa Almeno La presentazione Amichevole Perfetto E la nostra Irene Così deve andare a presentare A Maria Sole Presentazione Divertente Eccola qui Allora ragazzi Effettivamente Sono loro I nostri Sei Concorrenti Sì Sei I nostri Otto Concorrenti Bravissimi Tutti coloro Che li hanno creati Perché sono state Le mie Tra virgolette Prime scelte Quindi Irene David Maria Sole Darren Alicia Clarissa Bronislav E Marcelli No Enrico Ecco Io già lo so Che lui Lo chiamerò Marcelli Va bene Enrico Quindi ragazzi Loro sono gli otto Concorrenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Della casa Fatemi sapere Cosa ne pensate Dei concorrenti Delle novità Quindi del piano Inferiore Del fatto Che potete Continuare A mandare Le vostre Creazioni La novità Della casa Ovviamente E poi ragazzi Una delle novità Più grandi Di quest'anno Che ci voglio provare È questa E quindi Statemi bene Ad ascoltare Io metto pausa Così loro non ci disturbano Nella mia pagina Quest'anno Ci sarà Scusate Quest'edizione Ci sarà Un televuoto Nel senso che Ci sarà Come un sondaggio Dove appunto Voi potrete Indicare Con un solo voto Quindi Chi è il sim Che voi preferite Fra questi otto Quindi a parte Le nomination Che poi ci saranno Quindi il televoto Che sarà segreto Su chi vorrete eliminare Ogni settimana Ci sarà invece Diciamo Io l'ho chiamata La classifica Dove voi Tutti potrete Indicare Chi è il vostro Preferito E il più Votato Quindi il preferito Della settimana Dovrà poi Prendere delle decisioni Ovviamente Questa è una novità Quindi è una novità Prova Io ci voglio provare Subito da questa Prima settimana Come voi vedete Non è come Anche visto per dire Questa settimana A differenza Della scorsa edizione Non ci sarà subito Una nomination Ma ci sarà appunto Questa classifica Questo televoto È tipo sondaggio Avete presente Quando su facebook Si mette La domanda Con Le varie preferenze Voi potrete Appunto Indicare La vostra preferenza Fra questi Otto concorrenti E il più Votato Dovrà prendere Delle decisioni Nella puntata Successiva Ovviamente Ragazzi Io direi che Siamo Quasi al termine Se non per dirvi E spero Che tutti i creatori Di questi otto concorrenti Metano la descrizione Quindi la storia Del proprio concorrente Entrato Nei commenti Della loro scheda Così che io Potrei decidere Di prendere e copiare Nella loro scheda Oppure no Perché sinceramente Mettermi lì A scrivere ogni volta Tutte le storie Di ogni concorrente Nelle schede Per me era un lavoraccio E volevo Diciamo Velocizzare Invece Il lavoro Niente ragazzi Quindi Questo è Fatemi sapere Tutto ciò Che pensate I vostri commenti Condividete magari Il post Il video Tutto 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 Era da tanto Che non registravo E registrare Con la febbre Tra virgolette È veramente Difficile Ma spero vi sia piaciuto Vi mando un bacio Dal vostro Daniele Danzu E ci vediamo Al prossimo Episodio Eccoli qui Una carrellata veloce Irene David Maria Sole Darren Alessia Clarissa Bronislav Ed Enrico E devo Anch'io imparare Questi nuovi nomi Saluto Ovviamente La vincitrice Della scorsa edizione Che è Federica Fontana Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti